Se già la Coupé lasciava senza fiato, ora c'è da mettersi ad urlare. McLaren lancia la sua seconda stradale e non sbaglia neppure questo colpo, basta guardarla per capirlo. La 12C Spyder è una due posti secchi che propone il fascino dell'hard top mantenendo i livelli prestazionali della Coupé con il medesimo V8 biturbo benzina da 625 CV e 600 Nm di coppia. Una vera mostruosità. Lo 0-100 si consuma in 3 secondi e 1, mentre la velocità di punta tocca i 329 orari. A trazione posteriore e modellata su un leggerissimo telaio in carbonio, la McLaren 12C Spyder è gestita da una trasmissione a doppia frizione e 7 rapporti, azionabili anche con le leve al volante. Un sogno insomma, che non resta che infrangere. Il prezzo stabilito per l'Italia è di 235.600 euro. Grazie. Grazie.